Ti sei mai chiesta come mai sei sempre attratta dagli uomini che non ti vogliono? Ti sarà successo nella vita di uscire con una persona, di investirci tantissimo tempo, energie, alzarle le tue aspettative, provare a darle tutto il possibile affinché questa persona ti notasse, per poi alla fine finire come al solito, finire con questa persona che ti diceva che alla fine no, non eri tu la persona giusta, con questa persona che ti diceva che no, non eri abbastanza per lei, eri troppo poco, o addirittura a volte eri troppo. E ogni volta che te lo sei sentito dire, la tua testicella dell'autostima si abbassava, ogni volta non ti sentivi abbastanza importante, abbastanza bella, abbastanza interessante, abbastanza sexy, abbastanza indimenticabile da riuscire anche tu a entrare nel cuore di un uomo. Magari le tue amiche si fidanzavano tutte, avevano figli, si sposavano, e tu eri sempre quella che incappava negli amori sbagliati. A volte l'hai perfino chiamata sfortuna, ti sei detta che alla fine tu sei una sfigata in amore, che la felicità capita sempre agli altri, ti sei riempita di credenze limitanti che hanno solo bloccato ulteriormente la tua vita. Invece oggi vorrei ragionare con te sul perché tu sei incappata così spesso in uomini che non ti volevano. Per quella che è la mia esperienza è sempre un problema di autostima. Attenzione che l'autostima non è sicurezza in se stessi, come molti vogliono farci credere. Infatti se tu sei sicura di te, veramente sicura, automaticamente diventi arrogante. Perché quando noi siamo sicuri di noi, non abbiamo più voglia di imparare, non abbiamo più voglia di metterci in discussione, non abbiamo più voglia di evolvere come esseri umani. In realtà questa non è autostima. L'autostima, proprio dalla parola, è avere stima di se stessi, avere fiducia nelle proprie capacità, è amarsi, è volersi bene, indipendentemente da quello che ci dice il mondo. Quando invece non hai autostima, cerchi l'amore che dovresti provare per te stessa negli altri. E cerchi un uomo che ti faccia sentire amata, ti faccia sentire voluta, ti faccia sentire desiderata. Perché tu non provi niente di tutto questo per te. E quindi lo cerchi in altri. Il problema è che quando non lo trovi, inizi a sbracciarti. Come un annegato che sta per soccombere alle onde e inizia a sbracciarsi per farsi vedere dalla spiaggia. A quella persona che è in difficoltà, non interessa che chi la salva sia una persona di valore, una persona di successo, una persona con cui condividere gli stessi interessi e le stesse prospettive di vita. A quella persona interessa solo essere salvata. Si chiama sopravvivenza, assolutamente normale. Il punto è che tu, molto spesso, ti comporti come quella persona che sta negando. Non ti interessa chi ti verrà a salvare, basta che ti salvi. Perché quando noi non ci amiamo, quando tu non ti ami, succede esattamente la stessa cosa. In quel momento è più importante trovare una persona che ti ami, come tu non sei in grado di fare. E quindi le caratteristiche di quella persona, chi è, se condivido o meno i tuoi valori, passano completamente in secondo piano. E se ci pensi è una follia. Perché demandi a un altro la possibilità di amare te stessa. Demandi a un altro la tua felicità. Metti in mano a uno sconosciuto, a uno semi sconosciuto il tuo valore. E quando questa persona inizia a trattarti male, a non volerti, a desiderare qualcun'altra più di te, tu abbassi la tua sticella dell'autostima, ancora e ancora. E pur di averla nella tua vita, pur di dimostrarti disponibile, indimenticabile, preziosa, fai tutto quello che vuole lui. Inizia ad accettare cose che sono inaccettabili. Inizia a contentarti delle briciole, come se fossi un passerotto qualsiasi che si nutre delle briciole dei passanti. Il punto è che tu non sei un passerotto e non hai nessun motivo per accontentarti delle briciole. Tu sei una persona di valore e meriti un amore che riconosca il tuo valore. Il punto è che tu devi accettare e devi riconoscerlo tu in primis, il tuo valore. Perché non puoi aspettarti che sia un altro a dartelo. Non puoi fare come quella persona che sta negando, che si aspetta un aiuto da qualsiasi persona. Perché l'importante non è negare. Tu sei una persona che sa nuotare, che è in grado di sopravvivere da sola, che sa il suo valore, che lo riconosce. E la persona che cerca è una persona che migliorerà la sua vita, non una persona che le salverà la vita. È una differenza importantissima questa. Se tu vivi nella paura di non essere amata, troverai sempre persone che non ti ameranno davvero. Perché non sapranno riconoscere il tuo valore. Perché tu per prima non riconosci il tuo valore. E come fai allora a pretendere di essere amata da qualcuno se tu per prima, che sei la persona più importante della tua vita, non sai riconoscere il tuo valore. Non sai darti quell'amore di cui hai bisogno e che assolutamente ti meriti. Pensaci, le persone che trovano un amore sano, un amore completo, un amore appassionato, sono le persone che già sono complete e appassionate per conto loro. E che trovano qualcuno che migliori la propria vita, non che la salvi. E di certo non danno a qualcuno in mano la propria felicità. Anche perché, se tu ci pensi, non c'è niente di più sexy al mondo di una donna che abbia fiducia in se stessa. Io non sono qui a dirti che là fuori ci sarà sicuramente una persona per te, che ognuno ha la propria metà della mela, che anche tu troverai un giorno la persona dei tuoi sogni. Non ci penso neanche a farti questi discorsi. Io sono oggi qui a dirti che tu sei la persona più importante della tua vita e che è fondamentale che tu riconosca il tuo valore per non accontentarti sempre di amori sbagliati. Magari sei una di quelle che divide gli uomini in due categorie, quelli noiosi, prevedibili, bravi ragazzi e quelli affascinanti, tenebrosi e che ti trattano male. Sappi che non ci sono solo queste due categorie. Sappi che il mondo non si divide in noiosi e inaffidabili, ma che in mezzo c'è un mare magnum di persone interessantissime da conoscere e che puoi conoscere, puoi starci insieme, puoi avere delle relazioni appaganti. Ma prima devi partire dalla relazione più importante della tua vita, che è quella con te stessa. Per interrompere il circolo vizioso delle relazioni insane, delle relazioni con persone che non ti vogliono, che ti trattano male, che ti danno solo briciole e di quelle briciole tu ti nutri. Per interrompere questo tipo di relazione è fondamentale che tu capisca una cosa, che la persona più importante sei tu e che non vale la pena sprecare lacrime, tempo, fatica dietro persone che non ti vogliono. Quindi oggi ti chiedo, quando è che vuoi cominciare ad essere felice davvero?